mamma mia se godo mamma mia se godo ho fatto quello per il fallimento di marotta fallimento totale fallimento totale fallimento totale allora ragazzi io sono scioccato da quello che ha fatto l'inter sono rimasto super scioccato per quello che ha fatto l'inter perché non sapete che ha fatto cioè carissimo di bala hai fatto una scelta giustissima di andartene dalla juve perché non mi è piaciuto manco come hai giocato per un secondo hai fatto benissimo di andartene e hai fatto benissimo a non scegliere non scegliere l'inter hai fatto non so quanto bene non so non so proprio io non sapete non sai quanto sto godendo di bala che non si è andato lì e si è andata alla roma perché non me l'aspettavo proprio che di bala che tu te ne andavi dalla juve per andare alla roma perché tu hai il cuore giuventino pure se te ne sei andato hai il cuore giuventino quei pianti all'allian stadium non erano del coccodrillo erano veri perché lui ci tiene la juventus lui ci tiene come la juventus e ricordati di bala se quando affronti l'inter quest'anno devi vincere perché quelli volevano a te e forse fanno vogliono la vendetta e forse vincono ti devi proprio scatenare perché noi non vogliamo che l'inter vince con te roma per favore roma sono con te io mi fido di te perché perché so che tu hai vinto la conference league mi fido che tu puoi vincere l'andata con con l'inter il campionato non mi importa siete pure in coppa italia non mi interessa ma per favore roma vinci con l'inter perché l'inter un po da da juventino sono rimasto male per l'inter perché perdere due giocatori fortissimi bremer di bala non prendere bremer di bala una cosa bruttissima perché bremer se n'è andato da noi e di bala se n'è andato dalla roma quindi ragazzi non so come come spie come descrivere questa spero che l'inter perde la coppa italia col milan perché io dal milan campione d'italia campione in carica mi aspetto una cosa una finale di supercoppa me l'aspetto straordinaria me l'aspetto divertentissima me la vedo per gufare l'inter ma spero che lo spero che potete vincere perché voi da campione in carica dovete sapete vincere con l'inter sapete tutte le strategie e credo in voi perché voi siete una squadra una squadra proprio perfetta per bene che promette sempre grandi successi grande grande emozioni quindi io mi aspetto dalla juve vincere almeno scudetto scudetto e coppa taglio mi aspetto solo quello da vincere perché non la champions non la vinceremo la supercoppa non giochiamo perché quindi per favore ragazzi adesso il 18 gennaio si farà la finalissima di supercoppa milan inter e ragazzi speriamo che vada come vada il campionato quest'anno sarà pazzo perché tra scuole di serie b forti e non forti ce la possiamo fare grazie a tutti grazie a tutti